Sono Martina e ho 21 anni, sono nel pieno della mia giovinezza e abito a Monza, nella mia amata Monza aggiungerei. Sono cresciuta in questa casa, in casa di mia madre, dove fortunatamente c'è sempre stata un sacco di musica. Mia nonna ha sempre cantato tantissimo e mia madre ha sempre tenuto lo stereo acceso, quindi poi questa cosa me la sono portata dentro, in quinta elementare ho iniziato a studiare musica ed era l'unica cosa che mi interessava fare veramente, perché la scuola non è mai stato il mio forte, gli sport tanto meno, e l'unica cosa che volevo veramente era ascoltare musica, cantare, suonare. Infatti da un paio d'anni a questa parte la mia vita è stata completamente inglobata dal mio progetto di musica, che si chiama comunque Martina. Comunque perché, a parte che è una bella parola, e poi vuol dire, ha un bel significato, vuol dire nonostante ciò, vuol dire in qualunque modo io rimango sempre Martina. E poi era il mio nickname di Instagram, di quando ero piccola scrivevo tutto abbreviato tipo XKE per dire perché, CMQ per dire comunque, quindi poi è rimasto. E sono sempre stata una persona super estroversa, chi mi conosce lo sa, sono una chiacchierona e una casinista. C'erano alcuni sentimenti e alcune esperienze, alcune persone che ristagnavano all'interno del mio corpo e della mia mente, che dovevo ancora affrontare, rielaborare e metabolizzare. E la musica mi ha aiutato incredibilmente. Se un anno fa, se qualcuno mi avesse detto tra un anno sei ai Live X Factor, io avrei riso rumorosamente. E invece siamo qua. Ricordo le audizioni e l'ansia che avevo e la suggestione. Tu entri in questi studi pieni di luci, di impalcature, di persone che vanno veloci e dici wow. I bootcamp invece sono stati il mio step preferito. Mi sono super divertita. E poi ho portato un pezzo a cui ero molto legata, a cui sono molto legata e che quindi mi ha tenuto compagnia. La parte più impegnativa sono stati la Skoll sicuramente. Ero impresentabile, avevo un'angoscia assurda. Ho portato un pezzo un po' rischioso in realtà. E poi ricordo che quando il giudice Manuelito avrebbe dovuto dire alle concorrenti chi avrebbe fatto parte della squadra ufficiale, hanno chiamato me e Lisa insieme. E ci siamo dette ok sorella, cioè o prende una delle due o nessuna delle due. O la va o la spacca. E poi Manuelito ha iniziato il discorso dicendoci voi siete entrambe una sfida enorme. e quindi ho detto bella. Basta. E invece sono qua. Aiuto, ma top. Quindi ci vediamo alla prima puntata dei live di X Factor 2020. Comunque Martina, X Factor. E viva la vita.